Salve a tutti in questa nuova Christmas Challenge, sono di caldo, è in tema, è pure in tema. E' giusta? Allora, siamo al numero 22 se non sbaglio, se sbaglio pazienza, però deve essere il numero 22 anche perché il numero 21 è la prima parte, se non l'avete vista bloccate il video e andatela a vedere, così vedrete le sue facce orribili quando deve rispondere. Allora, premettiamo una cosa, ovviamente ho fatto un sondaggio, che è, visto che le domande abbiamo scoperto che sono innumerevoli per questa challenge perché, non so, la gente ci vuole male, abbiamo deciso, un'idea, visto che io ho chiuso il mio canale ASMR perché gestire due canali era impossibile, abbiamo pensato perché non gestirne uno e mezzo a testa? Giusto. Tanto lui chiude il canale di Gianni, vi lo spoilerò già, io non lo sto più usando, quindi magari alcuni non saranno manco che esiste, quindi usciranno video. Quindi praticamente toglierà i video che sono rimasti, come sto facendo io, quindi abbiamo optato per fare una cosa, visto che Gianni ha solo 60 iscritti e il mio di SarasMR invece ne ha già 300, nessuno si sta togliendo, cioè io tengo il canale e tutti si tolgono, quando chiudo il canale nessuno si toglie più. Mi odiano molto. Allora abbiamo pensato che poi faremo un video a parte su questa cosa qua. Perché non riaprire un canale insieme? Perché l'avamo aperto per pochi mesi, ai tempi che furono all'inizio, però diciamo che erano i primi tempi che stavamo insieme e riuscivamo a fare video. E quindi abbiamo deciso adesso di riproporre la cosa. Ovviamente nel canale faremo solo challenge insieme, solo cose insieme, insieme. E abbiamo chiamato per ora, se la cosa andrà in porto, non si sa, non ci proveremo. Si chiamerà hashtag, si chiamerà hashtag, cioè l'asta che lo mettiamo noi, si chiama hashtag perché sarebbe l'incrocio dei nostri nomi di SarasMR. Molto bene procediamo. Quindi questa parte, visto che è molto lunga, se questo video arriverà a un numero spropositato di visual, 200 visual, faremo tutta l'altra parte di tutte le domande che sono... No, in questo video penso che ce la facciamo. Vi metterebbe poi le domande hot da farci. Tutte le domande che volete farci noi le risponderemo in un video. Ce l'hanno di essere molto rassuntivi. Ecco. Sì, poi faremo challenge, faremo tag, gol o che cazzo vuoi. Andiamo avanti. Allora, eravamo rimasti a quale domanda? Alla 21. Alla 21. C'è un abbigliamento, una mis, un tipo di lingerie che preferisci addosso alla tua amante? Abbiamo già risposto. No. No? Andiamo a quale delle calze. E tu? No, questa qua no. È un'altra ancora, vabbè. Io sì, ho risposto le mutande bianche a te. Ecco. E tu hai risposto a te con la... abbiamo già risposto, andiamo avanti. Ehm... Poi... Ecco, preferisci dominare o essere dominato? Stavo volando un'altra volta. Allora, visto che nella coppia sono quella un po' più dominante, nel rapporto sessuale siamo il contrario. Non è il senso che io lo tratto come... Non è perché ci tengo a precisarlo. Non è che io lo tratto come una pezza da piedi nella vita di coppia. Però tipo, lui mi spesso dice, amore, cosa facciamo, c'è c'era? Ah, non lo so, c'è il tuo amore. E quindi, perché avanti c'è c'è sempre io. A parte alcune volte che magari l'idea ce l'ha. Però diciamo che tendenzialmente sono dominante io nella coppia. Quindi lascio lui il dominio nella sessualità. Proprio che sono pigra. Cioè, nel senso, se non è che dormo, sono morta mentre facciamo sesso, ci mancherebbe. Però mi piace... Cioè, dominante si può dire, no? È giusto. Siamo avuto poi. È lui il dominatore. Ci vanno sfumature di neve. Di bianco. Ci vanno sfumature. Ecco, non esiste. C'è nero, no, nero, rosso e grigio. Insomma, ma il bianco. Ci vanno sfumature di bianco. Ecco. Sì. E ti amore di rispondere. Bisbettico da domare. Io sono da domare. Riega tanto. Domare vedo arduo. No, io ho tolto la cosa su Facebook da domare. È bello che lui la vuole. Io avevo scritto la frase che aveva detto Celentano, bisbettico da domare. Io ho messo poi domatici di bisbettici per fare la cosa simpatica. A me sono arrivate cose strane, mi sono arrivate. Tipo che volevo fare la mistress. Lui non so che cazzo è. No, mi sono arrivate richieste da tutte, dalla Germania, di donne che volevano fare la sveltina. Allora, io posso capire che scrivere bisbettico da domare, però... Beh, io ho scritto domatrice di bisbettici, quindi sono passata per mistress, tipo Frustini, chiamami con me, ne parleremo in un altro video, ma vai avanti. Le mi leggelle tutte. Preferisci la penetrazione. Nel sesso orale. La penetrazione. La penetrazione. Non so se ci stava pensando. Un 50 e 50, però dai. No, dal dire vero o no, personalmente lui come uomo, non che io abbia avuto tutti i fissati uomini, non... Diciamo che non è fissatissimo con il sesso orale, come lui era, tipo, magari il mio ex. Quale devo dirlo? Molti uomini sono molto, molto fissati sul sesso orale, non è che lo disdegnan, però... Anzi, però dicevo che è più fissato sulla parte, è proprio quella più penetrante, ecco, vai avanti. Ti piacciono le sveltine? Oppure ami di più prenderla comoda quando fai... Comoda, comoda. Ci mettiamo un'ora, una remetta, una sveltina di 20 minuti. Più che sveltina, sembra più una puntata. Una puntata... Provate a pensare a una puntata di un episodio di Netflix. Sì, ecco, vedete che noi, non so nel senso, mettiamo The Under, ormai è standard, conosciamo sesso. Va avanti due o tre puntate, quando non trafoggiamo. Uno dura 40 minuti, quindi... Vedete voi. Il dolore, secondo te, fa un po' parte del piacere? Ma dipende, lui fa sempre male quando faccio sesso, quindi... Mi strizza i capelli, mi fa male, quindi... Dipende, cioè, dipende dall'intensità della cosa. Dipende, se uno mi dà una frustata, no? Però, sì, ci sta, ma non è dolore, è una cosa diversa, non so come chiamarla. Poi lui, magari a volte lo picchio, non lo so. Cioè, dipende, dipende, dipende. Lo mordo durante il rapporto, quindi... Non so. Però non è che gli stacco la faccia, cioè, sono quelle cose che si avvicinano al piacere. Giusto. Andiamo avanti. Gli opposti si attraggono. Tu non hai risposto, comunque. Il dolore ci si... Lui piace. Ci si muatisca. No, non lui piace. Mi tiene che a pezzo come le cose delle radio, dei citofoni. È una radio. Sì. È una radio da sintonizzare. Gli opposti si attraggono. Gli opposti si attraggono. A alcune cose ci assomigliamo. Abbiamo magari alcuni hobby. A alcune cose ci assomigliamo. E a alcune cose siamo all'opposti. Sì, siamo all'opposti. Se non all'opposti, nel senso che magari... Allora, abbiamo meglio B in comune. Sì. Tipo, che ne so, siamo molto nerd, siamo molto figli. Siamo figli. Ovviamente. Hashtag fighissimi. Ci faccio fare video su YouTube e tutto il resto. Però a livello magari caratteriale lui è più timido. Io sono molto più aperta anche sessualmente. Soprattutto anche queste domande mi... Lui lo preplimono. A me non... Farò né caldo né freddo. Cioè, a livello caratteriale magari siamo differenti. Tipo, lui è più io, io, io. Io sono più... Io sto cazzo. Gli altri, gli altri, gli altri. Però l'ho detto in un video. Che una cosa buona che mi ha insegnato è che devo pensare più a me stessa. La citazione. Il filosofo che dice che ha le piastrelle. Hanno dei sentimenti. La strada a modo di fare. Hanno dei sentimenti. Certo. Le piastrelle hanno... Quando tu le devi mettere le cose? Hanno dei sentimenti. Le piastrelle hanno... Hanno dei sentimenti. La strada a modo di fare. Poi c'è un altro oggetto. Che l'altro oggetto non mi ricordo che cazzo ha detto. Non mi ricordo più. Non lo scrivo, me lo cavolo. È molto filosofico comunque. Tipo, a me piace tipo la scuola studiare. Lui è proprio... Via. A me piace il mare. A lui non so cosa piace. Il cinema, penso. E quindi... Lo porterò al mare. Cioè, è riuscito ad andare con me in spa che non voleva andarci. Poi al fine si è divertito. Quindi alla fine. Vai. Hai mai pensato al massaggio prostatico? Che cos'è? No, ma non è una cosa brutta. Ok. È un massaggio al... Prostatico dove c'è la prostata. Ah. Ma che domande sono? Cosa ne pensi del sesso in pubblico? Ma la stessa domanda? No, è un'altra. Beh, quello prostatico lo saltiamo. Andiamo avanti. Saltiamo. Cosa ne pensi del sesso in pubblico? Senza, non devo fare un cinema. Dipende di cosa intende del pubblico. Se in macchina... Penso che... Ho in macchina... Se in macchina potrebbe vedermi qualcuno, non mi dà problemi, anzi vorrei provare. Se devo fare in un giardino, in un giardino, mi potrebbero vedere, mi dà un po' fastidio. Infatti è un po' così. Dipende. Dipende. Dipende, ecco. Poi se vogliono guardare sono mille euro. Un minuto. Ecco. Speriamo tantissimo, quindi... Hai mai praticato sesso in situazioni strane? Roba tre o più orge o simili? No. Poi vorrei capire chi queste domande le ha create, comunque no. 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 Hai mai fatto sesso con qualcuno che in realtà non ti piaceva? E come è stato? No. No, anche perché non ho creduto nel sesso senza amore, quindi figuriamoci che una persona non mi piace fisicamente. Cioè, ma nemmeno se fossi dopo tre anni senza sesso, piuttosto mi compro un bambolotto con la faccia di Johnny Depp. Piuttosto andate su Wish e prendetevi le cose. Le cose finte, ecco. Verisco. Non veramente vi comprate una bambola o vi la formate voi, vi mettete la faccia di una modella. Cioè, io penso che sia una cosa abbastanza... Tipo, boh, magari se tu brilacchi e vedete la persona figa, può capitare. Ecco. Hai mai fatto sesso anale? Attivamente e passivamente? E cosa ne pensi? Attivamente e passivamente non è mai capitato se... Ah, pensa... Non lo so. Sì, nel senso che, vabbè, magari se la coppia è omosessuale. Può essere. Perché poi attivamente la vedo ardua a fare... Però, no, Johnny è ardua nel... Cioè, se io dovessi fare sesso anale attivamente penso che mi ricordano... Comunque sì, l'ho fatto, ma non con lui. Però non lo farei mai più. Non ci sarebbe... Perché ho fatto difficoltà, non mi piace. Non è neanche poco lui, penso che mi ricordano... Hai mai ricevuto del sesso orale... Tu la sai la boccia, amore, se la... I muri non ti sentono. Hai mai ricevuto del sesso orale pessimo? E come mai era brutto? Cosa hai provato? Non so, l'ho fatto solo io, quindi... Spero che qualcun altro abbia fatto... No. Qualche servizietto sui tavoli. No, no. E quindi, raccontaci la tua storia. Non l'ho mai fatta ancora. No, l'avrei ricevuto, no? C'è scritto anche... Hai mai ricevuto? Ah, ok. Ah, eh... 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 Beh, molto... Ce la vuoi fare? Un pompino, stiamo parlando di cose oscene. Ah, è molto... Vabbè, non è che... Si staccano il cappello? Si staccato? Non quando ho finito la domanda, vai. È molto... Non è che il cappello ti rivela i segreti, eh? È molto... Molto bello. Sono brava. Si, sono molto brava. E diciamo al mondo che siamo brava a fare i pompini. Siamo tutti molto felici. Che devo dire? No, è quello il senso. E questo è il senso. È il senso che siamo unica. No, no. È stato soddisfacente. Soddisfacente. Inaspettato. Molto inaspettato. La prima volta quando è... Si, ci ho voluto tre mesi per me che mi si fidasse che aveva paura che io lo mangiassi. È molto. Ma con tutti i due uomini è così. È stato molto inaspettato. Si, anche il giochino che faccio particolare che nessuno saprà mai. No, cosa non si deve sapere. Io sono molto geloso. Un po' sotto però sono geloso. Anche non sotto, geloso in generale. Sono geloso. Allora dovevo rispondere io. Lui non l'ha mai praticato. Non perché non volesse. Perché non voglio io. Perché ho dei criteri un po' particolari. Ecco. Però me l'hanno praticato in passato. Devo dire che a me piace. Però mi fa strano. Non so perché. Penso che sia più una cosa che deve ricevere l'uomo che la donna. Sempre perché sono egoista. Solo perché... Sempre per il mio caso che sono altruista e non sono egoista. Ma non preoccupate perché mi... Mi fa strano. Ti fa strano. Nel senso perché ho le mie pattugne tipo magari mi puzza. Magari ho il pezzo. Devo depilarmi. Cioè non lo so. Non faccio le mille paturnie. Mi comprerò una crema al cioccolato. Così risolveremo il problema. Allora che chiamo al bound. Che amore. La crema al bound. Quale è posto? Ecco appunto. Siamo a posto. Ti piace praticare un sano conmillingus? Parlando di le patate di patate. Alla tua amante perché? Lo vorrei avventurare. Non me l'ha mai detto no. Sono io che non... Non voglio ancora. Dopo due anni in mezzo ce la posso fare. Dica. Troveremo poi il mondo. Il momento. La soluzione. Le cose abbandono. Ecco. Oppure ci sono le montagne con... Le caramelle. Le caramelle gommose. Non mi devo sempre depilare. La parmela. Tutti e due un po' depilare. Fanno bene. A parte dei peli. Sempre appunto. Torniamo al fatto dei peli. I peli pubblici. Pubblici. L'ho detto pubblici. Vabbè. Pubblici. Nella partner ti danno fastidio. Ti eccitano. La parmela potremmo farla anche a doppio filo. Si all'incontrata. Non capisco perché nel 2020 solo la donna si debba depilare quello che abbiamo chiarito. Allora nel 2020 tanti si fanno anche i cuoricini nei puro. Ti è vero si possono fare i cuoricini? Si possono fare un po' tutti i disegni che si vanno. Allora io sono sincera nel senso a me danno fastidio a me stessa. Però più che altro si danno fastidio. Cioè penso che danno molto fastidio. Per alcune cose. No dice a livello di intimità poi. L'intimità no. A lui che frega un cazzo. Anche faccio le nelle gambe anche in questo momento. No no. Che si sono sincera. Sono una donna all'inverno. Dimmi depilio a strada. A volte. No ma perché non crescono tanto i peli eh. Stai dicendo a strada. Sì a strada perché guarda. In alcuni punti non mi crescono. Cioè non è che sono pelosissima. Però mi fa schifo ovviamente. In realtà alcune volte dico. No ma non mi sono depilata. A lui che se ne frega. Donna pelosa, donna donna donna. Donna voliosa. Esattamente. Però ce ne penso sono io che. Sì vabbè ovvio che. Ma non nel bosco San Patrizio. Tipo se so che dobbiamo farlo. Magari nel momento non giustatina ma la do. Però dico. Secondo me nell'uomo. Allora di pilato no no no. C'è il senso. Intendo. I peli nelle gambe io lo trovo. No fa schifo no. A me piace che ci siano i peli nelle gambe. Anche se ne ho dovuto vederli le gambe. Nel petto no. Mi piace più. A parte che lui non ha cambiato questa roba nel petto. Però mi piacerebbe a volte che magari il bosco dell'albero azzurro fosse un po' più. Essendo un riccio di. Sì sono riccio. Essendo molto riccio di. Come si vuole dire. Di cispugli. Forse non dico senza cispugli. Ma che i ricci e i cispugli fossero un po' più bassi. Più che altro perché in alcune circostanze. Esattamente. E' solo quello. Esattamente quello è il problema. Perché tante ragazze si lamentano solo per quello. Non è per un livello estetico. Ma è per un livello di morta soffocata. Che poi. Che poi è la stessa problematica che poi c'è l'uomo nella donna penso. Tante parentesi. Sicuramente alcuni uomini hanno la cosa che danno un po' fastidio anche ai peli. Sì perché immagino che magari. Perché le mutande ti pizzicano. Anche le donne. Se ti pigliano il pelo nel momento sbagliato. Che sei in giro. Tu ti ritrovi. Tanti peli. Tutti tolti per la mutanda che ti ha pizzicato. La cosa più bella di tutte noi donne. Quando abbiamo il ciclo che mi mette c'è l'assorbente. E a volte l'assorbente capita che se appiccico in posti strani non ti sei depilata. La depilazione in quel momento te la fai lo stesso. Quindi hanno messo tutte le donne. Non molte donne ci depilano prima del ciclo. Perché. Boh magari alcune hanno nel bosco San Patrizio. Non lo so. Però io principalmente mi depilo. Comunque do una molta disboscata allegra prima del ciclo. Perché mi fa poco schifo a me anche. Già abbiamo una certa sostanza che esce. Quindi se ci mettiamo pure i peli fa poco schifo. In teoria il pelo dovrebbe essere una cosa igienica. A me fa schifo. Qua sotto le ascelle. Le ascelle vanno sempre depilate ragazzi. Si depilatevele sempre. Perché se andate in pullman. In pullman sì infatti sono anche in pullman perché altro sudate di più. Quando andate in pullman che è stato iniziato è brutto. E alzate la scella e c'è il bosco fa schifo. Io c'ho due peli sotto le ascelle ma mi li tolgo sempre. Andiamo avanti. Allora questa domanda. È strana. È strana. Hai mai usato Viagra o simili? E com'è stato? Allora nel senso di Viagra. Siamo in coraggio. Siamo in coraggio. Che cosa serve? No, so che alcuni miei amici maschi l'hanno buttato perché magari dovevano fare delle cose particolari. Che non sto a dire. Un mio amico ha detto che finisero in ospedale perché il pene non gli si abbassava più. Ma o simili nel senso di sempre? Simili c'è il Viagra, c'ha Alice, sono tutti gli stimolanti per mantenere le erezioni per lungo. Tipo magari devi fare una cosa a tre. Hai paura che non ti si emozioni. È il momento giusto e quindi se lo pompano e poi se lo tirano per 12 ore e non va più giù. È brutto tenendo 12 ore. Mi mi ha contato proprio tutto il corso. Ho dovuto fare una cosa molto brutta. Perché doveva avere un rapporto con più ragazze. Per non fare brutta figura si è tenuto la pannocchia dura. Sì, però fa pure male. Molto. Ho potuto quando poi chiamare le sue amiche dicendo Eh, ce l'ho barzotto per 12 ore. Ahia. Sì, ha provato anche di tutto ma non ce l'ha fatta. Alla fine abbiamo dovuto chiamare. Vabbè. Perché è la guardia medica. Ha più bella guardia medica che poi ci ha detto di provare tipo col ghiaccio con tutto. Non funzionava nulla, poverino. Che senso. Non ha mai chiusato il Viagra. Ma se sei allergica? Può capitare anche se c'è l'allergia ti viene tipo o non è mai, non so come funzioni. Però tipo in modo pericoloso se la pressione è alta. Ecco perché ne esistono di tutti i tipi. Beh. Quello. Poi. Quante volte riesci a iaculare al massimo in un giorno? Iaculare è più per l'uomo che per la donna. Diciamo in generale quanti orgasmi riesci ad avere. Che poi l'orgasmo è l'iaculazione, è la stessa cosa nell'uomo. Perché non so se sei sicura. Pericolare penso che tutte e due. Però in due circostanze sempre diverse. Ma diciamo che l'uomo e la donna ha altri. In momenti separati. Cioè possiamo venire anche insieme. Però è un po' più complicato. Però dipende. La donna sicuramente è più dell'uomo. Però dipende. Cioè un giorno non si può stabilire. Cioè si sostecco da un tot di giorni. E poi vedo lui. E cioè posso venire al massimo cinque volte. Poi se mi venga la cancrena. Massimo. Cioè il mio massimo è stato sei volte. Mi faceva il male la patata. Poi dipende soggettivo. Tipo se fai auto... Autoerotismo magari riesci anche di più. Però ti consumi le dita, la patata. Risponde a tua domanda. Non lo so. Cioè potrebbe anche essere due o tre. Se lui è una donna, non è un uomo. Quindi viene anche tre volte mentre facciamo. Quindi non è un uomo. Penso può essere. È uno dei pochi che riesce ad avere più orgasmi. Però poi... Penso che il massimo per un uomo è spesso che sia tre. Anche perché devi... Non è come la donna. Devi proprio ricaricare. Devi ricaricare. È come la pistola. Devi ricaricarla. Esatto. Ad un po' di fucine si scarica. No. Poi ti fa pure male. La donna anche. Però non è che è infinita. Quindi un po' male. Brucia. Nel mio ritmo c'è il ciglio. Devo fare salviette. C'è super ciglio. Sì. Quando... Quanto riesci ad adorare prima di venire? Cattura Martona di Pokémon Tass. Un bel po'. Un bel po'. Un bel po'. Un bel po'. Ah, dipende. Dipende. Dipende anche da... Ci sono giornate che non... Diciamo che il massimo che non è durato venti minuti. Quindi è un buon risultato. Ripeto. Il massimo può essere quanto vuole. Decide lui. Giusto. Massimo ammazza me. Va bene. L'ultima domanda. Oh, ci abbiamo fatta. Come hai scoperto il sesso la prima volta? Com'è? Con te. Ma il sesso in generale? No, forse in generale. Il porno. Il porno, sì. A parte mia mamma che me l'ha spiegato in una maniera molto strana. No, il porno alla fine. Però, sì. Il sesso vero e proprio è il porno, sì. Cioè, mia mamma me l'ha spiegato come si chiamano i bambini, ma il sesso vero e proprio è il porno. Più che altro alle elementari, non alle elementari, le medie. No, me lo ricordo. Alle medie. Perché c'erano dei ragazzi che mandavano sempre foto un po' così. Sì, le... E mi ricordo questa cosa che non ci sono stata. Che nel computer i due vecchi amici avevano sempre... C'era la cartella calcio, tutti avevano una cartella calcio gli uomini con il porno dentro. No, no, direttamente avevano una donna aperta con tutte le... Eh, vabbè. Ho scritto l'apertura a 24 ore su 24. A 24? E... Da lì ho scoperto un po' tutto questa cosa. Ma l'uomo è più così. La donna già invece sono i genitori che le parlano, poi comunque ho scoperto comunque le cose. Vabbè. Io l'ho scoperto dei miei amici maschi. Avendo 10 amici maschi, c'è stato mio amico che mi ha detto, sai cosa sono i porno? No, mi fatti vedere, posso. Che poi facevano pure vedere la mela tagliata e a forma... Che a metà c'era la patata. Ah, sì. Eh, oh, eh, che devo dirti. Poi alle varie scuole ti facevano in discorsi la stessa scuola. Sì, no, poi soprattutto a scuola. Che cazzo, che veramente erano proprio stupidissimi quando noi sapevamo tutto. Poi ti chiedevano, ti sei fatta una masturbazione? Autoreutismo, male si diceva. Autoreutismo. Ma chi cazzo è che non si fa autoreutismo quando è piccolo? C'è un po' dipende, c'è gente che poi se lo fa anche se non è sviluppato, però... Nella donna è più una cosa complicata, perché alcune donne sono più... Vedono come una cosa brutta. Cosa facendo di preciso? No, no. Ma per la donna comunque... Io me l'ho molto amica che dico, no, che schifo, io non mi tocco. Come pretendi che la gente ti tocchi se tu non ti tocchi? Cioè non è che a me piace, mi faccio impazzire, però penso che sia anche il modo per capire cosa ti possa piacere. Cioè non è sbagliata, come anche il fatto che poi parliamo nel mio canale, nel nostro canale anzi. Questo è già il mio canale. Il nostro canale, i giochi sessuali, ovvero i giocattoli erotici, che parlavo con Shanty Live, che non so se la conoscete, la taggerò, mi amerà la follia. Certo. Sì, certamente, la parliamo con lei, che cerchiamo di fare anche dei regali originali natalizi, come tipo le anelli vibranti, così. Volete, volete dei giochi simpatici? Andate su Wish e siete proprio perfette. Vi spuntano così, poi una volta che selezionate la cosa vi spunterà nell'home page, non perché aprite. Sì, no, quello è il problema. Poi lo apri davanti al tuo padre, il tuo padre ti guarda e fa così. Mi ha mandato la... era una cosa molto simpatica. Era una cosa che si metteva nell'home page, una cosa vibrante. Che tu compri una statua e ti danno in omaggio la bocca finta. Ma la bocca è un po' inquietante, non posso capire ancora per la passera. No, non la bocca, non la patata. La bocca, 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 la bocca. Sì, ho capito, ma mi sono uscite di tutti di più. Non è vero che ci mettono il bollino davanti così non pensi cosa sia, ma si capisce benissimo. No, il fatto è che mettono il bollino davanti, ma se tu vai a vedere chi l'ha comprato, non vedi il bollino, non vedi direttamente la cosa. Ma io mi chiedo poi, è bello che uno ha scritto, taglia giusta, ce la taglia. Penso di sì. C'è scritto taglia giusta, poi ottimo materiale. Vabbè, te lo sta dicendo. Se tu lo vuoi comprare. Fa piacere. Vabbè, io ho scritto la recensione sulla lella vibrante che abbiamo comprato noi, quindi... Vabbè, io so. Uno mi ha scritto, ma tipo schiaccia il pene, non lo so, sono una donna. Poi c'è sapere o no, il mio ragazzo il cazzo di Viola non ce l'ha mai avuto, quindi... è ancora vivo, poi fa, ma va a misura. Ti posso assicurare che si è adatta a ogni tipo di cicconferenza, perché il mio ragazzo c'è la quercia secolare, non ha avuto nessun problema di cancranizzazione del pene. Quindi vai tranquillo, non ti puoi scegliere il colore. Ti capita molto. Vabbè, ti capita. Tanto non è che vado a vedere il colore. No, perché... Sì, perché essendo che è un... Tipo Aliexpress, essendo che è un sito giapponese, cinese, mettono il bollino. Sì. Però chi la compra non mette il bollino. No, per fare le foto io ho fatto il foto. Vedono proprio... Vedi proprio il tutto. Vabbè, anche alla fine. A parte la troia è finta comunque, quindi anatomicamente ci può stare. Ci sono anche le popipopie adesso. Le fanno... Non so, magari a qualcuno piace toccare, che mi devo dire. Ma ci sono anche le bombole confiabili. Le bombole confiabili è più completa. Che poi neanche confiabili. Non so, ci sono di gomma. Sono proprio di gomma. Di gomma, proprio quella... Un po' proprio senso, diciamo. No, alcune sembrano veramente belle. Diciamo come sono fatte bene. Mi inquieta. No. È come nella necrofilia. Allora, tu è come se tu entri in casa e ti ritrovi sta bambola lì. Ma perché non abbiamo visto quel film dove c'erano i robot? Forse per quello non riuscivamo mai più. Non è tante. No, no. Vedendola, perché sembra una persona reale. Perché alcune sono proprio belle. Il problema è che... Per i costruzioni. Dai. No, no. Ecco, anche se nessuno penso che la compra perché mi costa mille euro. Ci sono persone che sono molto... Con 700 euro di spedizione. In molti uomini la cosa perfetta è la donna che non parla. Però mi sa di necrofilia, senza offesa, però... Mi sembra che una persona è morta e mi piace... Mi sembra che ne... Ma questo solo che abbia gli occhi chiusi sembra necrofilia. No, è brutto. Ah, assolutamente. La cosa... La patata finta, tu, quello che vuoi, tu, però così sembra più necrofilia. Però Ugo, nei commenti aveva scritto che ci aveva messo un registratore e ci aveva messo una donna tramite YouTube. Ma puoi mettere anche Alexa per questo. Uno ha collegato una bambola gonfibile a Alexa perché le faceva parlare. Adesso ho detto che sia ognuno, perché attiva Alexa si è eccita. Ma no, dai! Fruttatele Alexa come una girl boy. Meglio gli scopo amici. Che è prima. È brutto. Cheavo. Non dovevamo nascere come scopo amici, ma la cosa non funzionava. Creavamo pessimi amici. Che anche è vocacciona. Ma si sento lei esciera già. Quindi noi mi facciamo i triangoli amorosi con i pupaggi. I pupaggi. Se ogni tanto a me te facciamo sesso, magari mi spunto io col coniglio. Adesso spunto da lei. Un po' ingombrante. Un po' ingombrante. Un po' ingombrante. Un po' ingombrante. Io lo dico sempre. Gli potete scaccolare il naso. Guardate. Da un video hot è diventato un video. Mi vedete che te le decreti. Guarda, gli potete scaccolare il naso. È bellissima sta cosa. È sempre penetrazione. Mi piace o lei fa così? Buona la mia foca. La foca c'è. Da noi è tutto. Da noi è tutto. Buona di tutto il video. Sto sudando. È buona. Ci vediamo nella prossima puntata. Al prossimo video. Allora, se la cosa andrà in porto non è un orso senza orecchie perché me l'ha chiesto. È una foca. È un cane senza orecchie. Ma come crede che è un cane? Ha i baffi. Comunque. Da noi è tutto. Poi se vuoi sapere altre cose un po' più strane, dei discorsi dove lui diventa tipo fucsia, apriamo il nostro canale ufficiale che in questo momento è in transizione. In transizione. Vediamo se lo può mettere. Anche la descrizione in transizione. Si è scritto tipo lavoro in corso, una cosa del genere. Progettazioni, non so che cazzo ho scritto. Dobbiamo solo cambiare il banner. Lo può mettere a fare lui perché tutti i banner me li fa lui. Come anche alcune copertine perché sono pigra e mi vengono delle merde. No, no, lei è pigra. Ma io lo dico, come anche lui, ad esempio, mi faccio i video. Io gli dico di usare Canva ma non lo... Ma non posso scaricarmi Canva, amore, c'ho il cellulare che ha rotto. Non so, ma c'è anche il programma. Mi devo scaricare il programma. Tutto nelle calcole al focaccino. Noi vi salutiamo. Alla prossima. Andiamo a fare adesso con la focaccia. Un bel lanciatore al focaccino. Con il focaccino. Ma lei non prova niente, è un po' pazzo. Ciao, ciao. Mi piace lui. Al prossimo. Alla prossima. Chi è che ti chiama? Sicuramente. Andate la hashtag Christmas Challenge 8. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.